4 milioni e mezzo di euro per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Parte ufficialmente il bando della Camera di Commercio in sinergia con Banca Etica. Stamattina il presidente dell'ente camerale Costantino Capone ha illustrato nel dettaglio un'iniziativa che appare particolarmente significativa, in un frangente caratterizzato dal cosiddetto credit crunch che impedisce alle piccole realtà di ottenere risorse. Il finanziamento avrà un tetto massimo di 15 mila euro con rimborso rateizzato in cinque anni e potrà essere richiesto anche manualmente presso lo sportello microcredito gestito da Banca Etica nella Camera di Commercio di Avellino. Noi partiamo da un presupposto che oggi più che mai ognuno si deve assumere le responsabilità fino in fondo quando c'è da salvare un territorio e soprattutto c'è da salvare l'economia di questa provincia. Il mondo bancario praticamente ha bloccato qualsiasi forma di erogazione. Presenteremo dei dati nel 2013 a fronte di 8 miliardi di raccolta il sistema concesso sul territorio 4 miliardi e mezzo quindi stiamo parlando un qualcosa come il 50 per cento. Questo finanziamento vale anche per i giovani disoccupati o chi vuole fare nuove imprese nella nostra provincia. La Camera di Commercio che garantisce per Banca Etica per cui le aziende che beneficeranno del finanziamento non deve dare nessuna garanzia quindi anche le cosiddette aziende non bancabili possono accedere questo è un grande segnale di apertura di fiducia nelle aziende del territorio e insieme a questa operazione andiamo poi a rifinanziare un altro fondo per 500 mila euro per l'abbattimento del costo del denaro.